...e direttore dell'aerolo canadese, delle ore 16.57, è in attivo al binario 8. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, ferma in tutte le stazioni. Il treno servizio terroviario metropolitano, linea 1, 26146, di Trenitalia, proveniente dall'aerolo canadese, è diretto a piedi, delle ore 17.04, è in attivo al binario 7. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, ferma in tutte le stazioni.